Siamo diventati specialisti a vincere con un guoglio di scarto e a vincere partite nel secondo tempo. Quindi male il primo tempo e bene il secondo tempo, anzi benissimo. Quindi se riusciamo ad affilare meglio anche il primo tempo diventeremo una forza della natura. Comunque oggi è stata una partita bellissima, una grandissima partita. Il primo tempo hanno meritato loro, anche se abbiamo subito una grossa ingiustizia perché ci hanno negato un rigore e un gol. Non ho capito perché l'ha annullato questo. Non l'ha capito manco il signore della Rai che stavano dietro di me. Quindi purtroppo qualche volta ci toccano degli albetri, ma purtroppo non lo so, non capisco. Sono sempre i soldi nomi, io non dico quello che penso. I soldi nomi, siamo sfortunati con questa signora, non dico che lo fanno apposta. Comunque, alla fine ci è andata bene.